Stasera sei qui perché? Perché Problem Solving, il proprietario e produttore del tuo ultimo film. Uno dei coproduttori, Mauro, è un amico storico, persona carinissima, è sempre stato presente nei miei progetti, ha un gran cuore, una grande anima, infatti è un'azienda che va alla grande perché c'è la sua umanità e ha dato quel pizzico di umanità anche al film, anzi ti voglio dire vi do uno scoop, incredibilmente noi siamo un po' connessi con Mauro, Atturo e Roberto Cipullo, uno dei produttori del film, perché tutti e tre in realtà Roberto con sconnessi ha avuto un bambino e adesso ieri è nato Riccardino e la compagna di Mauro sta aspettando, per cui questa magia di sconnessi ha portato bene questo film, assolutamente, una grande fortuna perché io penso che insomma avere oggi come oggi, ieri ho vissuto questa esperienza grandissima di Riccardino, è stata unica penso, io ripetire, il mio piccolo Oscar già l'ho vinto. Ma le prime notti insonni, come affronti, come passi il tempo da neopapà che non dorme? Al momento ancora ne so poco perché c'è la mia compagnia che sta in ospedale, per cui non mi hanno fatto rimanere a quel punto, ho detto vado a festeggiare, stasera brindo con gli amici, mi sembrava il minimo. Quindi si brinda Riccardino stasera, poi in questa splendida... Perché ha fatto questo, insomma è un evento dedicato alla Problem Solving, una grande azienda, solida, che negli anni ha sempre insomma dato il massimo, ha contribuito in maniera importante anche a sconnessi, per cui grazie a Mauro Attura. A proposito di sconnessi, c'è già qualcosa di pronto per il tuo prossimo film? Perché noi lo vogliamo sapere questo, se stai già lavorando, se aspetti che torni a casa Riccardino in modo tale che non dormi e quindi la notte ti metti a scrivere il prossimo film. Diciamo che io non dormo a prescindere, per cui non ti posso spoilerare niente, però sto scrivendo, sto scrivendo la sceneggiatura, è un film che gireremo in Messico, non ti posso dire di più. Messico, quindi sicuramente sei un fan di Narcos, è quello il genere? No, mi piace la serie, però è una commedia on the road in mezzo a una foresta, basta, stop. Ti abbiamo anche spoilerato troppo e quindi ti lasciamo all'alcol ai festeggiamenti per il tuo piccolo Oscar. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.